buongiorno a tutti cari amici collezionisti e amanti del retro gaming benvenuti sul mio canale io sono balbo toys e come vedete oggi vi sto per mostrare un gioco del game boy ho recuperato e ora ve lo faccio vedere qui davanti ecco qua mcdonald land trovato a una fiera preso a una quindicina di euro se non ricordo male e visto che non l'ho mai provato lo proviamo insieme allora come sempre ve lo mostro utilizzando batossera perché è molto più comodo ho testato il dischetto giusto su quei due minuti per vedere se andava ma ora ci guardiamo il gioco insieme grazie a batossera per chi non lo conoscesse batossera è un sistema operativo che siamo fatto io e che permette di giocare di emulare game boy e tantissimi altri altre console di una volta oltre che gli arcade e tanto altro vi consiglio di informarvi su youtube come come funziona batossera che cos'è batossera perché potessi trovare la soluzione all'utilizzo dei vostri giochi in modo da non stare sempre a terra fuori la vostra vecchia console per utilizzare il vostro gioco preferito e in modo anche da non rovinarle perché come sappiamo bene e accendi e spegni attacca stacca così va a finire che alcuni pezzi pregiati dalla nostra collezione rischiano di rompersi quindi e oggi giochiamo a mcdonald land e ve lo faccio rivedere qui trovato quel questo bel dischettino e non perdiamo altro tempo allora il gioco è per game boy classic come possiamo vedere abbiamo questo omino e qua si sceglie di usare l'afro americano o l'omino caucasico diciamo due livelli di gioco hard e easy abbiamo quattro vite tre cuoricini con il punteggio e andiamo io abbasso la musica perché non so mai se queste cose sono soggette a un copyright e mi rompono le scatole pur avendo l'oggetto fisico la nintendo sempre un po non rompiscatoline quindi però facciamo così ecco già possiamo notare da questo inizio da questo menu che sembra di essere un po nel gioco se l'avete mai giocato in wario land super wario land per nintendo che comincia proprio con una mappa di questo tipo e in cui noi poi dobbiamo andare superare i livelli quindi abbiamo questo gioco ed quasi salta nel pulsante sul pulsante si sollevano con un altro tasto gli oggetti che si potranno sicuramente lanciare contro i nemici qui abbiamo quale delle lettere del mcdonald eccetera 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 ecco qua non avendoci mai giocato non penso di essere un fenomeno quindi mi scuso se perderò e perderò anche magari la pazienza ogni tanto vi faccio vedere un po il gioco l'obiettivo è questo per ingolosirvi magari a recuperarlo o giusto anche solamente per la curiosità vostra adesso vedere come è fatto non è nemmeno facilissimo giocare con la telecamera del cellulare quasi addosso fortunatamente ho un piccolo un piccolo accessorio per tenere la ferma che mi aiuto un po o ecco qua mi sto chinando perché il mio joystick non è un granchè l'ho presi con temo quindi niente di speciale e a volte mi prende mali comandi prossimo una spesa sarà prendere un gioco un joystick un joypad migliore tra l'altro se magari voi siete più giocatori di me io sono un giocatore mi reposo della domenica proprio non sono uno di quelli non sono neanche mai stato da ragazzino uno che giocava ininterrottamente tutto il giorno la sera non usciva di casa preferivo andare a giocare a paracanestro quando c'erano le belle giornate e non stare in casa a giocare a giocare dicevo con i videogiochi vi dicevo che se avete un consiglio su qualche marca di joypad preferibilmente un joypad universale che si possa utilizzare sul computer essendo ambiente windows e linux perché così lo posso utilizzare sia quando uso batossera che lo uso da chiavetta sul computer ma anche quando uso sensibus so che come vi ho fatto vedere avrete magari qualcuno di voi l'avrà visto credo sia da computer io questo joystick come ve lo mostro anche guardate è bellino l'ho preso su temu tra l'altro a un prezzo basso e siccome me l'hanno spedito senza scatola io non conoscendo bene temu mi sono lamentato di questa cosa mi hanno anche prendere i soldi del joypad stesso per il fatto che mi sono lamentato che non fosse scatorato io do per scontato che mi vengono date anche le scatole di quello che prendo cosa da non dare per scontata su temu ok ho superato un pezzo difficile credo prima ero morto qua c'è uno un brutto ceffo ok mi sono mi sono nascosto prendiamo un po di rincorsa ok primo livello superato se si poteva andare da sopra o da sotto penso che non ci sia differenza visto che in ogni caso bisogna arrivare qua mi faccio vedere magari un altro livello ok ok ah sì wow mi piace questa cosa che si muove perfetto abbiamo ucciso il cicciotto rotondo ahia che male no ma è qua ha risposto male i comandi il joystick e ho sbagliato se uso la levetta forse meglio ma è così sensibile che non so se c'era se sono così bravo proviamo per ora sembra andare bene dai io questi livelli li ho sempre questi pezzi ecco così li ho sempre odiati anche quando comunque è ero bravo a giocare ai videogiochi e mi trovavo il super mario ad esempio queste cose da superare adesso che c'è anche questo joystick strano poco sensibile mi sa tanto che già da stasera faccio una ricerchina dei joypad anzi passo magari da uronics c'è la sotto casa c'è la vicino casa velocizziamo un po' così magari riesco a farvi vedere qualcosa in più non voglio fare un video troppo grande siamo già 10 minuti magari altri 5 minuti di video mi sembra che il gioco sia molto divertente comunque devo dire e guardate ve lo consiglio per chi piacciono a chi piacciono questo genere di giochi secondo me si diverte la grande io il gioco questo gioco non lo conoscevo cioè sapevo della sua esistenza ma non l'ho mai giocato in vita mia è proprio nuovo 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 per me ho l'ultima vita quindi giochiamo questa e se perdo ci salutiamo fino alla fine andiamo avanti finché ok prossimamente pensavo di portare altri giochi come ho detto durante una partita di sensibus world of soccer ma ve lo ripeto anche qua lo dirò più volte cercherò ai 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 ok perso ok intanto vi spiego cercherò di fare di mantenere un video costante ogni fine settimana che uscirà il sabato o la domenica in base a quando mi piace di più a me in genere metà giornata roba del genere mi sono alcuni sono registrati e fino e quindi sono già pronti per aprirle anche e poi cercherò di fare video come questo o comunque video più vari che tra cui ci sarà questo il retro gaming appunto ma anche qualche unboxing che cose un po diversi diciamo e li farò e farò che questi video diciamo un video extra chiamiamoli infrasettimanali uno durante la settimana ogni settimana tipo il mercoledì o il giovedì cercherò di quindi di fare diciamo due video a settimana uno per il weekend e uno infrasettimanale il mercoledì o giovedì in linea di massima è questo che voglio fare le tematiche saranno sempre tutte quelle che avete già visto nei miei video dall'unboxing dai vari ritrovamenti ai mercatini un po di storia del giocattolo attraverso le cose che ho la presentazione di qualche nuova marca di qualche nuova linea uscita o di qualche giocattolo particolare strano degli anni passati insomma tutto quello che può essere interessante per i nerd per il mondo nerd e per chi amate dei giocattoli in generale ma non solo ad esempio se mi viene voglia anzi ho già un video che uscirà non mi ricordo se l'ho messo in un fine settimana o altro di un formato diciamo per musica, cd e videogiochi che non ha avuto molto successo ma ho trovato tre oggettini lo stesso giorno tra l'altro che ho trovato questo bel dischettino qua di mcdonald land bene io per oggi vi saluto qua vi auguro una buonissima giornata tanto buon collezionismo buon retro gaming e tutto buon divertimento con tutte le vostre passioni per ogni cosa contattatemi sui miei social da youtube a instagram passando per trade mi trovate sempre come i barbo toys mi fa molto piacere conversare con voi e scambiarci anche pareri consigli, gusti sulle nostre passioni io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo presto sul mio canale con nuovi contenuti a presto ciao ciao